La nostra storia comincia tanto tempo fa. Siamo a Bauneni, un piccolo paese situato sul versante orientale della Sardegna. In quegli anni, la popolazione di questo piccolo borgo viveva nella paura più totale. Paura di qualcosa che si pensava vivesse nell'alto piano di Golgo, proprio sopra Bauneni. Una creatura che seminava il terrore, portatrice di morte e distruzione. Pochi furono quelli che poterono tornare in paese e raccontare ciò che i loro occhi avevano visto. In quegli occhi si leggeva il terrore di chi era stato faccia a faccia con un essere malvagio che sembrava essere fuoriuscito dalle viscere dell'inferno. Le poche testimonianze parlano di un drago, simile ad un serpente, dotato di possenti unghie e squame. Altri ancora lo descrivono come un drago dalle sette teste, con una croce in cristallo sulla fronte che chi fosse riuscito a prendere avrebbe avuto fortuna per cinque generazioni. Il nome che fu dato a questo animale, se così lo si può chiamare, è scultone, ossa serpente. Lo scultone seminava il panico fra gli abitanti di Bauneni. La sua comparsa era pericolosissima. Poteva infatti uccidere col soffio, ma soprattutto con lo sguardo. Chi lo incontrava, se non lo vedeva prima che lui lo vedesse, moriva di colpo. Sterminava i capi di bestiame. E abbatteva ogni cosa incontrasse lungo il suo cammino. La gente era disperata. Furono organizzate spedizioni per uccidere lo scultone. Ma questo non servì a nulla. Quell'essere sembrava immortale. Fu allora che per placare la fame incessante dello scultone, fu presa la decisione più orribile e sofferta. Offrire in sacrificio al mostro delle giovani ragazze, per tenere al sicuro il paese. Queste povere vittime innocenti, che non avevano nessuna colpa se non la sfortuna di essere giovani, venivano prelevate a forza dalle loro abitazioni. Legate mani e piedi e abbandonate al loro destino, nel territorio di caccia dello scultone. Ma il loro sacrificio fu vano. Lo scultone continuò nella sua opera di distruzione. Le donne di Baunei, le madri, capirono che restava una sola cosa da fare. L'unica che poteva salvarli tutti. Pregare. E così, a Baunei arrivò San Pietro. Il santo si recò a golgo, e cominciò a cercare il nascondiglio della creatura, fino a che furono faccia a faccia. Il bene contro il male, la salvezza contro la dannazione. Negli occhi dello scultone si poteva leggere un filo di paura, in quelli del santo, solo coraggio e sicurezza. Lo scultone rivolse gli occhi verso San Pietro, per poterlo fulminare. Ma il santo tirò fuori uno specchio, e puntandolo verso il suo avversario neutralizzò il suo potere. La creatura era così intontita, senza forze, danneggiata dal suo stesso potere. San Pietro afferrò il mostro per la coda, e col potere di Dio lo scaraventò al suono. Lo scultone sprofondò nelle viscere della terra, creando così la profonda fenditura chiamata voragine di Golgo, o Susterro. Tutta la gente di Baunei accorse sul luogo in cui era morto lo scultone, e lo dò San Pietro, ringraziandolo per aver liberato il paese da quel mostro immondo. In onore del santo fu costruita l'omonima chiesa, simbolo di gratitudine. Per quanto riguarda lo scultone, gli abitanti di Baunei non hanno dubbi sul fatto che sia morto e sepolto. Però c'è ancora qualcuno che giura di aver visto una creatura simile ad un grande lucertolone, che vagava attorno alla voragine, che sia diventata la sua nuova Tana, che sia ancora vivo. Non si sa. Se tutto ciò è vero, state tranquilli, tornerà. Grazie. Grazie a tutti.